Per mantenere attivo il metabolismo, il primo passo è pianificare bene i pasti. Mangiare con regolarità e in modo sano stimola l'organismo a reagire metabolicamente. Come prima regola, non saltare mai la colazione e consumare almeno 5 pasti al giorno, tra i principali e due spuntini, ma equilibrati tra loro. A ogni pasto introdurre proteine magre non devono mai mancare, come carne bianca, pesce, uova, legume o proteine vegetali. E poi usare le spezie come lo zenzero, il coriandolo, la paprika, il peperoncino non troppo piccante. Fare in modo che i cereali siano integrali come la pasta, il pane, i biscotti, così non si creano sbalzi di glicemia con conseguente fame nervosa. Come spuntino introdurre frutta fresca o frutta secca, come noci, mandorle, nocciole, anacardi, noci peccana, pistacchi, pinoli e sesamo. Meglio sostituire la caffeina con il tè verde che alza l'attività metabolica senza stressare l'organismo. E non dimenticarsi di fare una cosa che il metabolismo gradisce molto. Una camminata di almeno 30 minuti a passo svelto ogni giorno. Se ami la salute naturale metti mi piace e condividi questo video.